In un'epoca di incertezza e cambiamenti tumultuosi, l'umanità si trova spesso in cerca di risposte, conforto e direzione spirituale. Questo desiderio di connessione con il divino si manifesta particolarmente in momenti di crisi, quando le fondamenta stesse della nostra esistenza sembrano vacillare. È in questo contesto che si inserisce un evento straordinario accaduto a Medjugorje, un piccolo villaggio nella Bosnia-Herzegovina, noto per essere un luogo di pellegrinaggio e di presunte apparizioni mariane sin dal 1981. Medjugorje è diventato un punto focale per milioni di persone in cerca di spiritualità, pace interiore e un segno tangibile della presenza divina nella loro vita quotidiana. Durante una messa solenne a Medjugorje, un evento mistico ha toccato profondamente i cuori dei presenti e ha lasciato un segno indelebile nella vita di padre Petar Liubicic, un sacerdote devoto e conosciuto per la sua profonda spiritualità. Durante la celebrazione, padre Petar ha vissuto un'esperienza che ha definito come una manifestazione diretta della Vergine Maria, la madre di Gesù, che gli ha trasmesso un messaggio di speranza ma anche di avvertimento o riguardo a eventi futuri che potrebbero mettere alla prova l'intera umanità. L'esperienza mistica di padre Petar non è stata un evento isolato, ma si inserisce in una tradizione millenaria di apparizioni mariane, dove la Vergine Maria appare a individui particolarmente devoti per trasmettere messaggi che richiamano l'umanità a una maggiore fede, penitenza e preghiera. Questi messaggi sono spesso accompagnati da profezie su eventi futuri e da inviti urgenti alla conversione e alla preparazione spirituale. Tuttavia, l'esperienza di padre Petar a Medjugorje assume una particolare rilevanza, poiché avviene in un periodo storico caratterizzato da crisi globali, instabilità politica e incertezze economiche, facendo sì che il suo messaggio risuoni con una forza ancora maggiore tra i fedeli. Il messaggio che la Vergine Maria ha rivelato a padre Petar durante questa esperienza mistica è di una portata straordinaria. La Madonna ha avvertito che il mondo si trova a un punto di svolta, e che grandi sfide sono all'orizzonte. Queste sfide includeranno disastri naturali, sconvolgimenti sociali e una crescente confusione morale e spirituale. Tuttavia, il messaggio della Vergine non è stato solo un avvertimento di calamità imminenti, ma anche un richiamo alla speranza e alla preparazione spirituale. La Madonna ha assicurato che coloro che si prepareranno spiritualmente e riporranno la loro fiducia nella sua protezione troveranno conforto e forza per affrontare le prove future. Questo richiamo alla preparazione spirituale non è un invito alla paura, ma piuttosto un'esortazione a rinnovare la propria fede e a rafforzare i propri legami con Dio. In un mondo sempre più secolarizzato e materialista, la Vergine Maria ha sottolineato l'importanza di ritornare a una vita di preghiera, di sacramenti e di comunione con il Divino. Padre Petar, nella sua testimonianza, ha ribadito che la fede e la preghiera saranno gli strumenti essenziali per affrontare le difficoltà che ci attendono. In particolare, ha evidenziato l'importanza del Rosario, una preghiera mariana per eccellenza, e della devozione a San Michele Arcangelo, il difensore celeste contro le forze del male. Il Rosario, con la sua meditazione sui misteri della vita di Cristo e della Vergine Maria, è visto come una potente arma spirituale contro le tentazioni e le avversità. È una preghiera semplice ma profondamente contemplativa, che permette ai fedeli di entrare in un'intima comunione con Dio attraverso l'intercessione della Madre di Cristo. La devozione a San Michele Arcangelo, d'altra parte, è particolarmente rilevante in un'epoca in cui molti percepiscono una crescente presenza del male nel mondo. San Michele, il grande combattente contro Satana e le forze delle tenebre, è invocato come protettore e guida in questi tempi difficili. Padre Petar ha anche sottolineato l'importanza della preghiera collettiva. In un mondo sempre più frammentato e diviso, la preghiera comunitaria è vista non solo come un mezzo per ottenere grazie divine, ma anche come un modo per rafforzare i legami tra i membri della comunità, promuovendo l'unità e la cooperazione. La Vergine Maria, nel suo messaggio, ha esortato i fedeli a superare le differenze nazionali, razziali e religiose, e a lavorare insieme per il bene comune. In un'epoca in cui le divisioni sembrano dominare il panorama globale, questo invito all'unità e alla cooperazione assume un significato particolarmente urgente. La Vergine Maria ha sottolineato che solo attraverso l'unità spirituale e sociale si potranno affrontare con successo le sfide future. Questo richiamo all'unità non si limita solo alla sfera religiosa, ma si stende a tutti gli ambiti della vita umana, invitando le persone a collaborare per costruire un mondo più giusto e pacifico. La Madonna ha incoraggiato i fedeli a lavorare insieme, a condividere le proprie risorse e a sostenersi reciprocamente nelle difficoltà. In un mondo lacerato da conflitti e ingiustizie, il messaggio di Medjugorje offre una visione di speranza e di solidarietà, un richiamo a superare le barriere che ci dividono e a costruire una comunità globale basata sull'amore, sulla giustizia e sulla pace. Padre Petar, colpito profondamente da questa esperienza mistica, ha dedicato la sua vita a diffondere il messaggio della Vergine Maria. Ha iniziato un'opera instancabile di evangelizzazione, viaggiando per il mondo e parlando alle comunità di ogni continente. Il suo scopo è quello di ispirare le persone a prepararsi spiritualmente per le sfide future e a unirsi in preghiera e azione per affrontare i tempi difficili che verranno. La sua testimonianza è diventata una fonte di ispirazione per molti, rafforzando la fede di coloro che lo ascoltano e incoraggiando una maggiore devozione alla Madonna e ai sacramenti della Chiesa. Padre Petar ha spesso ricordato che il messaggio di Međugorje non è un semplice avvertimento, ma un appello urgente alla conversione e alla speranza. La Vergine Maria non desidera spaventare i suoi figli, ma piuttosto li invita a ritornare a Dio con fiducia e amore. Il suo messaggio è un richiamo alla misericordia divina, alla possibilità di un nuovo inizio per l'umanità, se solo si risponde con fede e umiltà alla chiamata celeste. Padre Petar ha incoraggiato tutti coloro che lo ascoltano a non perdere la speranza, anche di fronte alle prove più difficili, e a ricordare che Dio è sempre presente, pronto a sostenere e a guidare coloro che si affidano a Lui. La diffusione del messaggio di Međugorje ha avuto un impatto significativo non solo tra i cattolici, ma anche tra persone di altre fedi e persino tra coloro che si definiscono non religioso. Il richiamo alla preghiera, alla conversione e all'unità è universale, toccando corde profonde nel cuore di chiunque sia in cerca di verità e significato. Padre Petar, con la sua missione, ha cercato di costruire ponti tra le diverse comunità, promuovendo un dialogo interreligioso basato sul rispetto reciproco e sulla ricerca comune della pace. Il messaggio della Vergine Maria a Međugorje, come riportato da Padre Petar, ha anche messo in luce l'importanza della vita sacramentale. I sacramenti della Chiesa, in particolare la confessione e l'Eucaristia, sono visti come fonti di grazia necessarie per rafforzare i fedeli nella loro lotta spirituale. La confessione, in particolare, è stata sottolineata come un mezzo per ricevere il perdono di Dio e per rinnovare il proprio impegno a vivere secondo i principi del Vangelo. L'Eucaristia, d'altro canto, è il cuore della vita cristiana, il momento in cui i fedeli ricevono il corpo e il sangue di Cristo, diventando così partecipi del mistero della sua passione, morte e risurrezione. In un mondo in cui le tentazioni sono molteplici e le distrazioni infinite, la Madonna ha esortato i fedeli a trovare rifugio nella preghiera e nei sacramenti. Ha ricordato che solo attraverso una vita di fede autentica si può sperare di resistere alle sfide che il futuro riserva. La preghiera, secondo il messaggio di Medjugorje, non è solo un atto individuale, ma un'esperienza comunitaria che unisce i cuori e rafforza i legami tra i membri della Chiesa. La preghiera collettiva, in particolare il rosario recitato in famiglia o in comunità, è vista come un baluardo contro le forze del male e come un mezzo per ottenere grazie speciali per il mondo intero. Padre Petar ha anche parlato dell'importanza di vivere una vita di carità e di servizio agli altri. Il messaggio della Vergine Maria non si limita alla dimensione spirituale, ma si estende anche alla vita quotidiana, invitando i fedeli a praticare la carità, a soccorrere i bisognosi e a lavorare per la giustizia sociale. In un'epoca di crescente disuguaglianza e ingiustizia, la Madonna ha esortato tutti a impegnarsi per costruire un mondo più giusto, dove ogni persona possa vivere con dignità e in pace. Il messaggio di Medjugorje, come riportato da Padre Petar, è un invito a ritornare all'essenziale, a riscoprire la bellezza della fede e la gioia di vivere secondo gli insegnamenti di Cristo. È un richiamo a vivere con semplicità, mettendo al primo posto la relazione con Dio e con il prossimo. In un mondo sempre più complesso e frenetico, questo messaggio di semplicità e di ritorno ai valori fondamentali risuona come una voce di saggezza e di speranza. Padre Petar ha anche evidenziato l'importanza della devozione alla Vergine Maria, vedendola come una guida sicura in questi tempi incerti. La Madonna, con il suo amore materno, è vista come colei che conduce i suoi figli verso Cristo, il Salvatore. La devozione mariana, quindi, non è fine a se stessa, ma è sempre orientata verso una più profonda unione con Gesù. In questo senso, il messaggio di Medjugorje è un invito a seguire Maria, la madre di Dio, per giungere a una più piena realizzazione della propria vocazione cristiana.